Aio a me vuoi rire, a me mi viene veramente da ridere, non ho parole, non ho parole, non ho parole veramente Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis Signori, signori, il 25 e il 26 non sono usciti i video, naturalmente ero a Roma, non avevo tanta voglia di registrare i video Ragazzi ero in famiglia, quindi a Giori Trapone, due giorni stacco YouTube, stacco tutto, ho scritto solo sulla community e basta Detto questo, è impossibile non parlare di queste parole che ha detto Luciano Moggi, perché a me mi viene da ridere A parte che questi hanno fatto un cd, hanno presentato il cd agli azionisti di qua e di là Praticamente nella cosa dei soci, se non era la conferenza stampa dei soci, di qua e di là C'era anche Luciano Moggi, uno che è stato accusato di aver falsificato un campionato Uno che ha falsificato il campionato, non che era accusato, ha falsificato il campionato Perché calciopoli tutti se lo ricordano, chi ha pagato è stata la Juventus, dovevano pagare anche quell'altro Ma chi ha pagato è stata la Juventus, perché c'erano prove vere Che Luciano Moggi contattava gli arbitri, si faceva disegnare gli arbitri E via discorrendo, e lui va a dire la Juventus non ha mai rubato Anzi, ci hanno rubato un campionato, anzi due scudetti ci hanno rubato a noi Cioè chi sta veramente è strunzo, questo è veramente strunzo, chi sta veramente è scemo Ma io non lo so, ma quelli del CdA della Juventus, quelli nuovi Cioè io penso e rifletto, e io dico, questi veramente non hanno capito un cazzo da dopo calciopoli Cioè questi veramente hanno ancora gente come Luciano Moggi come socio Cioè io veramente state facendo, siete veramente così ridicoli voi juventini Cioè io non ho parole, invece di prendere le distanze da Luciano Moggi Che quello che vi ha fatto passare nel 2006, voi lo invitate anche alla conferenza dei soci Cioè io, 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 cioè veramente si è strunzo Cioè poi dici che uno è scemo, che uno vi viene addosso, che uno vi critica Che uno fa l'anti-Juventino, ma come fai a non essere l'anti-Juventino in questo caso? Come fai? Come fai, o aiù? Cioè questo è andato a dire davanti al nuovo CdA, noi non l'abbiamo mai rubato Io, 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 no, nuova Juventus Ma però c'è sempre tanto della vecchia Juventus, o aiù, cioè Io ho pure Agnelli che dice, i bilanci sono a posto, non abbiamo mai fatto niente Le carte parlano chiaro, siamo rientrati nei bilanci, siamo entrati di qua Però l'amore della Juventus viene prima, quindi ci siamo dimessi No, perché se ti sei dimesso, caro Agnellino, c'è qualcosa sotto C'è qualcosa sotto di concreto Non penso che un CdA completo di 6-7 cristiani, quanti siete, si va a dimettere E così, dall'oggi al domani si va a dimettere così Qualcosa c'è sotto di grosso Qualcosa di sotto c'è grosso veramente Perché se no non andavate a levarvi tutti dai coglioni Dai, fate i seri Fate i seri, c'è qualcosa sotto E questa distanza che voi non prendete ancora da Luciano Moggi È allucinante Cioè uno di Moggi dovrebbe essere radiato Radiato dal mondo del calcio Nemmeno dovrebbe aprire bocca per parlare di calcio E voi lo invitate ancora alle conferenze stampa E lo invitate ancora in sede nella Juventus Scema, veramente stati facendo Siete veramente così ridicoli Perché di questo si parla, oiù Di essere ridicoli, secondo me Secondo me siete ridicoli Punto, basta È allucinante È allucinante quello che è successo oggi Cioè io non ho parole Per descrivere questa vostra Che poi non è nemmeno incoerenza Perché voi ve ne fregate delle regole Voi ve ne fregate di tutto Ci avete esposto fuori lo stadio Quel numero di scudetti Che due o uno Quanti ve ne sono stati revocati Ma voi ce li avete lì La FIGC vi permette di tenerli lì L'avesse fatto qualche altra squadra Sarebbe successo il finimondo È allucinante È allucinante, oiù Veramente allucinante Io non ho parole Ma dopo tutto siamo in Italia E forse questa gente qui come Moggi Farà ancora strada Perché oiù qualche coglione Lo chiamerà ancora in televisione E molti lo chiamano in televisione a Moggi Per sentire la propria Sul caso plus Valenze Cioè ragazzi Ma voi state veramente facendo Voi state dando ancora credito A un coglione come Luciano Moggi Che ha rovinato il calcio italiano Ha rovinato il calcio italiano Insieme alla Juventus Veramente state facendo questo Cioè vaiù Qui siamo al ridicolo Siamo nel ridicolo Perché vaiù Come hai già detto Nuova Juventus Ma che strizza l'occhio Alla vecchia Juventus Quella del 2006 Se queste hanno riaperto le indagini Qualcosa c'è sotto E lo sapete anche voi Cari Juventini Non nascondetevi Non nascondetevi Perché prima o poi Prima o poi Questa verità verrà fuori E se queste hanno riaperto il caso Io mi inizierei a preoccupare Io vi ricordo di iscrivervi Al canale di Napolis 1926 Per esercivi vicino al Napoli Faremo un video a parte Per parlare proprio di Berezinski Con le sue migliori giocate Sempre e comunque forza Napoli Da vostro Napolis 1926 Ciao a you